Ben tornati ad una nuova puntata di Talky with Friends, qui nel salotto di Damme Sadebox, salotto al femminile, questa volta a parlare di un argomento molto interessante, ma prima di parlare dell'argomento vado a introdurre l'ospite che non è mai stato ospite della mia rubrica, quindi Talky with Friends, il buon Guido Guainazzo l'aveva intervistata durante la sua gravidanza e qui ho con me Alice Maestriani, ciao Alice. Ciao, sono molto contenta di essere qui. Ma ciao, sono contenta anch'io. Come posso presentarti? Io sono andata diretta al nome, beh diciamo che sei un atleta di lungo corso, anche se ultimamente insomma hai lasciato la parte... Un ex atleta ormai. Un ex atleta, hai lasciato la parte competitiva, sei osteopata, per CrossFit in realtà con un po' di rammarico da parte della community di CrossFit, diciamo che però ci stai lavorando un torno a quel mondo lì, poi ne parleremo, no? Sì, beh, questo è nel mio cuore, quindi sicuramente continuo a lavorare. Poi sei un osteopata, sei mamma e sei un'influencer, ormai insomma sei attivissima sui social Alice. Sì, beh, mi piace da un bel po' di anni e non mollo la presa diciamo. Bene, diciamo che sei una di quelle prime, insomma, atlete che hai iniziato nel postare i suoi allenamenti e poi insomma ti sei... hai trovato una strada tua, un filone tuo Alice. Sì, 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 esatto, è iniziata proprio così. Senti Alice, io ti ho chiamato perché voglio parlare con te di un argomento sempre un po' dibattuto, no? Quello di allenarsi, e parliamo, rimaniamo nel mondo CrossFit ovviamente, quello che ti appartiene, allenarsi durante la gravidanza. Abbiamo avuto degli esempi storici ultimamente, poi ne parleremo, faremo qualche commento perché tu, insomma, in questi giorni hai fatto un reel su teatumi, insomma, tanti commenti, ognuno ne pensa in un modo, chi ne pensa nell'altro, insomma, ognuno... Sicuramente c'è un'informazione abbastanza confusa al riguardo, quindi a me preme fare questi reel con questi contenuti più o meno informativi, diciamo. Diciamo che è la prima volta che affronto questo argomento, un argomento che devo dirti Alice, a cui tengo tantissimo anch'io perché sono un istruttore, ho allenato tantissime donne in gravidanza, quindi parliamo prima di tutto, diciamo, che ci si deve allenare e ci si può allenare durante la gravidanza, Alice. Sì, se è fisiologica non ci sono controindicazioni dal punto di vista medico, ci si può allenare ed è consigliato farlo. Infatti, prima di iniziare questo nostro discorso, vado a dare un dato che sono le linee guida della OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute. Cosa dice? Che durante la gravidanza è consigliato fare, cioè, almeno 150 minuti di allenamento settimanale, allenamento variato e con un'aerobica anche un po' leggera, quindi, insomma, le linee guida dicono si può fare, come dici tu, se non ci sono particolari problemi, perché no? Esatto. Tu che sei neomamma e affrontato, io mi ricordo benissimo, i tuoi allenamenti durante, insomma, questi nove mesi di gravidanza. Parliamo un po' della tua esperienza, Alice. Allora, io ho avuto una gravidanza fisiologica che è andata benissimo, la consiglierei a tutti, ovviamente ho avuto i primi tre mesi un po' conditi da nausee e altri effetti collaterali, però diciamo non era tutti i giorni, quindi quando stavo bene continuavo ad allenarmi, ma sempre rispettando le sensazioni, cioè se non mi sentivo non mi forzavo a farlo. Questa è la prima regola che consiglio sempre a tutte le future mamme, a tutte le ragazze che vogliono allenarsi in gravidanza e di ascoltarsi e di non forzarsi a fare per forza qualcosa, perché siamo, diciamo che meglio di noi non lo può capire nessuno, ok? Proprio anche le sensazioni, neanche il medico. E niente, quindi sì, io ho affrontato praticamente questa gravidanza spettacolare che mi ha permesso di allenarmi fino al giorno prima di partorire. Ma tu, ovviamente mi ricordo che eri seguita dal buon Matteo Fuzzi che era il tuo coach, come vi siete, come avete strutturato i vostri allenamenti? Ovviamente la tua condizione è cambiata e hai adattato il tuo allenamento alla tua condizione? Allora, diciamo che Matteo ha accettato di allenarmi in gravidanza perché non è una cosa che fa usualmente e perché appunto mi conosceva già da prima della gravidanza. Io ero una sua atleta da già un anno e mezzo precedente, insomma, al momento in cui sono rimasta incinta. E mi ha adattato tutta la programmazione in base all'obiettivo di mantenimento delle performance e scalandola di trimestre in trimestre. E ovviamente facevamo sempre poi dei punti di ricognizione per capire come stavo, come incentivo, se andava bene, se non andava bene, eccetera, eccetera. Quindi calibravamo continuamente questa programmazione sia sulle sensazioni che sulle linee guida CrossFit che io ho rispettato alla stragrande e forse sono stata anche molto conservativa. Parlami un po' di queste linee a guida, poi io sono andata a pescare qualcosa di cui poi analizzeremo insieme. Vabbè, fondamentalmente diciamo che cambiano di trimestre in trimestre. Quindi c'è il primo, il secondo e il terzo. Nel primo trimestre in realtà è quasi consentito quasi tutto, compresi anche i movimenti alla sbarra, i movimenti aerobici. Però io lì per esempio sono stata molto conservativa e sono andata molto a sensazione. Per esempio avevo già ridotto i salti, come i double unders, perché era una cosa che non mi piaceva sollecitare, quindi non lo facevo. Già il box jump lo facevo steppato dall'inizio, quando in realtà non è consigliato dalle linee guida CrossFit. Non ho mai fatto esercizi sulla pancia, come fanno tante ragazze anche fino al terzo trimestre, ma è una cosa che anche lì non mi piaceva perché è una sollecitazione molto importante. anche per il futuro bambino. E i carichi, ho ridotto i carichi. Inizialmente stavo tra il meno, circa il 75% del carico rispetto a un RM. Senti, io mi ricordo benissimo durante questo periodo della tua gravidanza, che ogni tanto però c'era qualcuna che qualche messaggino, qualche frecciatina te la mandavano. Guarda, questo lo sto notando anche adesso che ho fatto questo reel sulla Tia, che quello che mi fa veramente incavolare è il fatto che le persone si permettono di giudicare la mamma per quello che fa come se non fosse una buona mamma perché mette in pericolo il bambino, che è una cosa secondo me crudelissima che si fa. Cioè perché è proprio crudele pensare che una donna che vuole mettere a mondo un figlio, no, faccio delle cose per ego personale e per metterlo in pericolo. Non è così. È questo che a me dava più fastidio dei commenti che ricevevo. Ed è quello che poi continua a darmi fastidio quando per esempio li leggo sotto il post di Tia da Clara Tumi che continuano a dire che non è una buona madre perché ha fatto quello che ha fatto. Quando in realtà non ha fatto niente per mettere a rischio la vita di sua figlia come io non l'ho fatto con mio figlio, ma al massimo potremmo crearci dei danni noi. Noi stesse. Sì. È vero, è vero. Perché è quello che non è naturale. Poi ne parleremo di questa cosa qui perché come hai accennato, insomma ognuno poi ha la sua teoria, ognuno poi ha la sua ricetta ma poi bisogna vedere qual è la ricetta, quella giusta, no? Sì. Io mi ricordo sempre e ultimamente in qualche reel che tu hai fatto, no, di affidarsi anche dei ginecologi che sanno che cos'è il crossfit. Tu le hai definiti alcuni un po' boomer, no? Quindi un po' vecchio stile che non sanno neanche che cos'è il crossfit. Sì, beh c'è un'immagine un po' distorta dal fuori, ma è colpa anche di chi magari l'ha insegnato in maniera sbagliata, non è che ognuno si assuma le responsabilità, però c'è quest'idea che il crossfit è uno sport di impatto, pesante, in cui fai cose che vanno oltre le due possibilità e non si conosce proprio invece la capacità di adattamento che ha il crossfit per ogni singolo movimento, per ogni singola persona. Questo non si conosce, quindi di conseguenza si pensa al carico, si pensa a movimenti estremi, a intensità altissima e si dice no, vietato, vai a far Pilates. È vero. Senti, io voglio parlare con te di appunto, quando ho pensato a questo argomento, sono andata a vedere appunto cosa avesse pubblicato crossfit, perché non poteva non esserci qualcosa. Io ho pescato un articolo del crossfit journal, quindi il giornale del crossfit tradotto, no? Questo articolo del 2017, dove ci sono proprio una tabella con tutte le scalature, articolo redatto da Nicole Christensen, un level 4, per cui insomma non ha un neo istruttore, come dire, insomma una persona competente e preparata. E lei ha stilato nel 2017, chissà se poi lo aggiorneranno, perché insomma nel 2017 è già passato un po' di tempo, lei ha stilato questa tabella di più o meno ogni singolo movimento che si può trovare nel crossfit con i vari adattamenti. Io te ne vado a dire qualcuno e tu mi dici, ma sì, anche io l'ho fatto così, mi trovo in linea, insomma chi è meglio di te che ha vissuto questa esperienza mi può dire. Allora, ad esempio, nel running, quindi nella corsa che c'è, diciamo nel crossfit, nei vari workout, nei vari allenamenti, lei dà varie opzioni, ad esempio fare del row al posto del running, oppure dice di fare una sled push, ovviamente con un carico non troppo elevato, oppure fare un air bike. Allora, sinceramente anch'io la corsa l'ho un po' messa subito all'angolo, ma era una cosa che non è che mi primava tantissimo fare e anch'io l'ho sostituita con altri ergometri e a volte ho fatto delle passeggiate a passo sostenuto nel workout. Ecco, e infatti rientra anche nelle linee guide dell'OMS, quindi fare un'attività aerobica leggera. Parliamo di un altro elemento sempre tanto dibattuto, questo squat, si spacca, non si spacca il parallelo. Qui dici, adatta, quindi scendi fino a che tu ti senti comfort nello squat e adatta il peso allo squat. Ci sta, è quello che più o meno hai fatto tu. Sì, sì, io dal secondo trimestre non sono scesa oltre il parallelo. Poi ti dico la verità, nell'ultimo trimestre era quello in cui io mi sentivo più energica, in cui stavo meglio, eccetera, quindi probabilmente in alcuni movimenti a corpo libero, con sovraccarico, eccetera, magari l'ho anche rotto il parallelo. Però personalmente non ero a favore della rottura del parallelo. Il mio coach ovviamente era un in linea con la decisione, anche perché, non perché temessi appunto per l'incomunità del mio figlio, ma perché sapevo che c'era una grossa sollicitazione a carico del pavimento pelvico. Quindi non volevo stressarlo oltre quello che magari potevo già stressarlo e quindi di conseguenza ho ridotto il movimento a sopra il parallelo. Andiamo ad un altro elemento tanto dibattuto che ho visto fare alla TIA, di cui parleremo dopo, questi famosi double unders. Allora, la linea guida dice scala singoli, oppure fai dei kettlebell swing, oppure fai un'airbike. Che ci trovi? Allora, la linea guida è abbastanza, nel senso che da guida è un single under secondo me c'è poca differenza. Comunque il movimento è sempre il salto e la sollicitazione è sempre a livello della pelvi, delle pressioni intraddominali e degli organi appunto contenuti nella pelvi. Che noi donne abbiamo proprio un'anatomia completamente diversa dagli uomini, quindi le sollicitazioni nei salti già nelle ragazze che magari non hanno partorito possono provocare un'incontinenza. Figuriamoci con peso sopra che schiaccia ancora di più, si va ancora di più a favore di questo meccanismo. Quindi diciamo che io da quasi subito ho eliminato questi double unders, questi salti e anche qui sostituivo con gli ergometri. Ok. O swing in sostituzione di double unders in realtà non l'ho mai fatti, forse più bar piece scalati, magari sul box. Ok. Cominciamo a parlare un po' di pesi, parliamo qui del deadlift. Dice, scala il peso oppure fai un sumo deadlift. Che dici Alice? Ci può stare. Sì, sì. Parliamo, andiamo all'ultimo perché poi ovviamente la tabella è finita di... Sì, infatti a me spesso le ragazze mi chiedono ma mi dici come devo fare? Io ho fatto tantissimi reel con informativi sui trimestri, sui vari movimenti eccetera. e poi la mia scelta è proprio quella di non seguire le ragazze in gravidanza poi magari ne parliamo perché poi ognuna ha la sua caratteristica che andrebbe seguita poi da vicino perché magari sono ragazze... Ti ripeto, io per esempio nel terzo di me stavo una bomba, mi sentivo di fare qualsiasi cosa. Poi mi sono ovviamente contenuta. Però c'avevo una buona resistenza anche al peso, mi sentivo proprio in forze. Però ovviamente poi mi sono adattata alle linee guida senza esagerare. Quindi anche alle ragazze dico ok, sì, scala del peso o il sumo. In realtà il deadlift se tu lo fai con un peso gestibile lo puoi continuare a fare in movimento comune, insomma, normale. Parliamo di un altro elemento, la sbarra. Ci si appende o non ci si appende alla sbarra? Parliamo dei pull-up. Vado a dire qualche scalatura che consigliano. fai uno strip pull-up se è necessario. Usa una banded, quindi un elastico, altrimenti puoi scalare a ring row, altrimenti puoi scalare a bent over dumbbells row. Insomma, queste più o meno sono le scalature. Mi ritrovo? Mi ritrovo, anch'io ho fatto così. Diciamo che ho fatto il passaggio uguale. Primo trimestre riuscivo a lavorare nella sbarra senza grossi problemi, poi ho usato tutto il lavoro strict, quando non ce la facevo più ho usato le bende. Quando non ce la facevo più però è un termine strano perché in realtà a farcela, soprattutto io che mi allenavo da dieci anni a quei livelli, comunque riesci magari a farle. Ovviamente c'è più difficoltà, però sono sempre dei movimenti che sollecitano delle zone che vanno lasciate riposare, come per esempio il core e l'addome. Tutto il lavoro la sbarra, compreso nel lavoro strict, cioè un grosso ingaggio della muscolatura del core. che invece deve mollare per forza di cose perché lì ci deve andare alla pancia. Quindi non ha alcun senso continuare a sfiancare una zona che invece deve rilassarsi. Vero. Io poi appunto chiudo qui la tabella perché anzi consiglio di andarvela a leggere soprattutto per gli istruttori chi insomma ha delle donne in gravidanza perché è veramente molto utile. Sostanzialmente io dando una lettura di tutti gli elementi quello che noto che si toglie soprattutto la parte keeping che sia stamp push up keeping che sia il pull up keeping ti ci ritrovi in questa cosa Alice? Sempre per il movimento cioè sempre per quello che ti ho detto poco fa. Per il discorso del core degli addominali insomma di tenerli rilassati e tranquilli per quanto sia. Passiamo a questo elemento insomma a questo rile che è fatto in questa settimana di questa Tia Tumi Tia Tumi mi ricordi chi non la conosce insomma lei è stata sei volte campionessa nel mondo di crossfit con solo poi perché pure a livello di weight poi che faceva il Bob quello con lo slitting brava sì sì insomma top athlete come definirla lei anche lei recentemente ha avuto una gravidanza una bimba piccolina penso abbia 5-6 mesi è stata seguitissima ovviamente durante il suo periodo di gravidanza tantissimi video su YouTube soprattutto durante il periodo degli open dei quarti che lei ha fatto anche in gravidanza e quello che si è subito notato della Tia che lei ha scalato pochissimo quindi rispetto a te non è stata assolutamente conservativa c'è da dire che sicuramente avrà avuto un'equipe di medici che avrà consentito di fare tutto ciò immaginiamo insomma noi non lo sappiamo quindi lei ha saltato il box ha fatto da polanda ha lavorato sulla sbarca ha scalato poco e queste diciamo subito quello che hai detto anche tu Alice che non lo possiamo fare tutte diciamoci la verità assolutamente cosa possiamo dire di questa campionata possiamo dire che sicuramente avrà fatto le cose con cognizione sua personale avrà seguito innanzitutto non penso che abbia mai fatto qualcosa per mettere in pericolo la sua bambina questo è fuori dubbio perché anche se l'istinto materno non è che ti viene subito magari ti viene nel corso del tempo però comunque sia non è che sei proprio un incosciente c'è un minimo di paura soprattutto per il sentito dire per quello che ti arriva ce l'hai quindi quello lo escludiamo che sicuramente il suo scalare probabilmente avrà scalato per lei perché lei veramente è la più forte al mondo quindi sicuramente lei avrà utilizzato dei sistemi di scalatura sicuramente però è anche stato pochissimo conservativa vero e quindi questo spero che come ho detto anche nel reel non arrivi il messaggio che è una cosa fattibile per la maggioranza perché non lo è non lo è l'allenamento in gravidanza va adattato alla singola ma secondo te faccio un po' voglio mettere un po' di pepe in questa conversazione ma secondo te lei qualche rischio se l'è preso? ma per la bambina no per lei sì secondo me qualche problematica se la porta dietro però non penso che lei farà dei real così sinceri per dircelo infatti quello che hai detto tu noi non sappiamo il retroscena cioè quello che è successo dopo la gravidanza cioè insomma se ha dell'incontinenza dovuta a tutti questi beh principalmente i problemi che si può portare dietro sono questi ovvero l'incontinenza urinaria e poi che poi non so se te lo ricordi ma la Toris Dottir Annie sì ok lei già da prima era uscito un suo video mentre faceva un'analizzata molto pesante in cui aveva avuto un episodio di incontinenza proprio mi pare che era o sul palco comunque era un video che è andato virale quindi insomma se ne erano accorti tutti già da prima della gravidanza in più lei ha anche trattato tutto il problema della diastasi che ha avuto diastasi raccontiamo che cos'è diastasi Alice per chi magari qualche maschietto che è qui che ci ascolterà dice beh si è detto parlare sempre di diastasi ma che cos'è allora la diastasi è la separazione dei retti il muscolo retto dell'addome è costituito da due ventri muscolari uniti da loro da una fascia tra loro da una fascia ovviamente durante la gravidanza i retti si separano perché appunto devono fare spazio al bambino o alla bambina e poi nella maggior parte dei casi ritornano in modo fisiologico a posto io consiglio sempre comunque sia di valutarla che di trattarla in modo comunque anche se non si è a rischio di diastasi di trattare l'addome sempre in modo riabilitativo comunque dopo una gravidanza o in alcuni casi rimane questa separazione viene considerata una diastasi patologica quando è superiore questa distanza a tre centimetri che può essere in vari punti dell'addome non per forza cioè al centro può essere alta vicino all'ombelico sotto ombelicale insomma poi dipende e invece sopra i tre centimetri è considerata appunto patologica e si può a seconda dei sintomi presentati dalla paziente si può intervenire o in modo conservativo ma senza speranza che si richiuda del tutto la diastasi o in modo chirurgico sotto io per esempio ho diastasi all'ultima ecografia avevo 2,4 centimetri non mi porta dei grossi sintomi un po' di differenza c'è io provo a farci un lavoro anche se sto lavorando tantissimo e riesco a dedicarmi poco tempo però in realtà quando faccio tutti dei lavori specifici tra respirazione e addominali specifici la vedo che migliora è ovvio che non si richiuderà però vedo che migliorano i sintomi che mi provoca ma senti quando consigli di lavorarci su quanto dopo il parto allora se non ci sono controindicazioni dal punto di vista medico la mamma se la sente tra 40 giorni post parto in teoria si può riniziare un'attività fisica bene quindi insomma mi hai dato il lancio adesso proprio dell'attività fisica perché appunto vista la tua esperienza di me neomamma quanti anni ha adesso Lorenzo anzi uno e mezzo uno e mezzo quindi sei mamma da un anno e mezzo insomma sportiva di lungo corso hai tante persone che ti seguono tante ragazze tante neomamme hai deciso di intraprendere un'altra strada quindi hai creato un programma adatto per le donne che si vogliono rimettere un po' in forma post gravidanza AM programma parlami un po' di questo programma come ti è venuto in mente Alice insomma proprio questo anno e mezzo post sport è stato proprio un anno sulle montagne russe anche di crescita personale sicuramente che mi ha portato a cambiare tantissimi aspetti della mia vita compreso quello sportivo cioè il fatto di essere una mamma a 360 gradi mio figlio è andato all'asilo verso un anno di vita quindi comunque con un bambino a carico a casa diciamo è molto complicato fare l'agonista soprattutto perché mio figlio stava con me per mia scelta ovviamente no? e quindi mi ha portato a capire la difficoltà che tante donne incontrano cioè le difficoltà che tante donne incontrano nel momento in cui vogliono riapprociarsi all'attività fisica ma hanno tanti impedimenti tante difficoltà quindi io ho cercato di creare questo programma proprio nel modo più sincero possibile con tutte le esperienze di vita e poi soprattutto perché? perché c'è una disinformazione nel postparto nei confronti della donna paurosa cioè la donna una volta che ha partorito non gliene frega più un cacchio a nessuno cioè la maggior parte dei ginecologi non consiglia di fare una ecografia della parete addominale cioè nessuno lo consiglia quindi la maggior parte delle donne non lo sa e si risveglia dopo 5-6 anni con dei maldi schiena cronici con questa incontinenza che tanto è normale perché è partorito quindi pure questa cosa di tutte queste informazioni che mi arrivavano da queste ragazze poi con il lavoro che faccio a studio stupatia ho detto ok cerchiamo di fare qualcosa che possa dar una mano in questo senso e quindi ti sei messa lì e hai cominciato a elaborare questo programma io ho creato appunto questo programma che non è solo per le donne postparto perché poi io dopo sono diventata pure una ragazza una mamma che però non era più nel postparto quindi c'è questo programma del postparto che appunto dura tre mesi la rivedo proprio come una riabilitazione un programma dedicato solo alla diastasi per gestire la diastasi e poi ci sono dei programmi di allenamento di tonificazione e modellamento non crossfit diciamo che ho scelto quello di fare questi programmi per donne che magari lavorano sono mamme stanno a casa hanno pochi equip mentre si vogliono allenare così oppure vogliono farlo in gym in palestra sempre per sentirsi bene e per vedersi bene in realtà ho scartato la parte crossfit diciamo appunto volevo arrivare a questo è ideato per donne già allenate o anche per ragazze che magari non hanno mai fatto attività sportiva particolare no in realtà è adatto a tutte perché io prima di lanciare questo programma ci ho lavorato un anno intero poi l'ho lanciato ho testato tutte le cose tutti i workout quindi diciamo c'è stato proprio un lavoro l'ho dietro e ci stanno vari percorsi a seconda anche dei livelli quindi in base poi al livello all'obiettivo ti incanali nel percorso ho 5 percorsi ad oggi e spero che siano solo 5 mi sembra già tanta roba ma voglio saperne un pochino di più sono cose che posso fare a casa posso allenarmi tranquillamente a casa o posso farlo il programma che ho sparto lo puoi tranquillamente fare a casa perché sono tutti sono tutti workout senza equipment tutto corpo libero tutti esercizi dedicati al core per la prevenzione e la gestione della diastasi poi c'è il programma di tonificazione e modellamento che è un pochino più spinto quindi diciamo che devi avere già una piccolissima preparazione con un minimo di equipment che puoi svolgere tranquillamente a casa basta che hai dei piccoli sovraccarici diciamo e puoi tranquillamente svolgerlo a casa e poi c'è quello un po' più advanced che è invece da fare in gym in cui ci sono tutti esercizi sempre mirati alla tonificazione e anche un pochino all'ipertrofia ma non per per diventare un po' stiamo parlando appunto non stiamo parlando di bodybuilding no sulla tonificazione leggera ipertrofia perché comunque a me il corpo muscoloso piace quindi alle ragazze trasmetto ovviamente quello che poi vivo io ogni giorno che appunto è un po' più advanced però io li intervallo sempre con dei workout in stile o crossfit o HIIT o metabolici insomma con movimenti anche simili il crossfit che gli butto sempre un po' lì anzi adesso ho fatto un'iniziativa che ogni venerdì faccio la newsletter per chi è iscritto che non devi per forza essere iscritto al programma dove tra l'altro se avrete piacere poi metterò nella newsletter quando avrete pubblicato tutti i contenuti mi dai tutti i riferimenti io li mando nella newsletter e ogni venerdì mando un workout da fare a casa per la gente perché io veramente quest'anno tanta motivazione me l'hanno data le ragazze quando io ero in crisi insomma la crossfit sì crossfit no me l'hanno data le ragazze che seguivo perché loro nonostante tutto continuavano imperterrite con magari bimbi malati in un'ora di sonno loro si allenavano quindi mi davano sta carica sta motivazione di continuare a fare questa cosa che mi ha dato la stessa motivazione che avevo prima magari con idee agoniste non so se mi so spiegata con idee competitive diciamo beh senti è un po' difficile riuscire a distaccarsi da quello che è stato sicuramente la tua routine di di atleta qualche miseria qualche miseria sì 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 allora sono stata un po' criticata perché mi hanno detto che io avrei potuto continuare a fare crossfit anche per il puro piacere di farlo non per forza in modo competitivo il problema mio è che io non riuscivo mai a fare un allenamento crossfit per il puro piacere cioè io facevo l'allenamento crossfit per la performance non riuscivo mai a distaccarmi e ogni volta era una frustrazione perché ovviamente andavo che magari il giorno prima non mi era allenata il giorno mio figlio non dorme c'è un bambino che dorme pochissimo cioè sono stati fino all'anno mi ha fatto dormire se no due ore a notte quindi ero devastata è molto sveglio ma questo ti porta che proprio non ha mai dormito cioè proprio e quindi per me era una frustrazione perché non arrivavo mai dove volevo arrivare e quindi a un certo punto con fatica ho entrevisto proprio in percorso di psicoterapia che ancora sto facendo e mi aiuto tantissimo ho capito che avevo finito basta adesso ho trovato diciamo un'altra strada su cui focalizzare magari se mi ha giusto la testa nel senso che se sono tranquilla perché il mio compagno ancora fa crossfit quindi per un po' ci ha provato a dirmi dai andiamo vieni dai oggi facciamo io no no ma senti ti manca lì c'è un po' allora l'allenamento di crossfit come lo vivevo io no non mi manca sicuramente era molto divertente quando stavo bene nel senso perché comunque io nell'allenamento crossfit ci credo penso che sia veramente molto funzionale che sia super divertente che ti dà risultati quindi magari non escludo che fra un po' di tempo se mi sento bene un sabato mi do a fare un shipper che ne so ma cosa così non lo so non lo so non lo escludo però devo proprio stare serena che non mi deve ripartire il tarletto ma senti ma le guardi le gare di crossfit ancora qualche atleta lo guardi o proprio solo le gare a livello mondiale quelle dei noantri diciamo mi tiro fuori solitamente guardi le gare internazionali quelle dove c'è tanta bella ciccia tanto bell'argonismo sì al momento sì ma un po' perché un po' mi va però ne parlo perché comunque ho tanti amici che lo fanno quindi il mio compagno ogni tanto comunque mi tira fuori qualche argomento quindi non è che sono completamente stranea senti ritornando un po' al tuo programma quali sono i dubbi le domande che ti fanno spesso i tuoi clienti quelle che riscontri più o meno sono sempre quelle le domande allora diciamo che la maggior parte delle persone no scherzo vabbè tantissime persone vorrebbero essere eseguite in gravidanza cosa che io ho proprio scelto di non fare perché penso che sia più opportuno che soprattutto una ragazza che fa crossfit viene eseguita dai coach di riferimento poi i dubbi che hanno sinceramente cioè allora tante mi contattano perché io ho un'immagine legata al crossfit quindi vorrebbero la programmazione crossfit seguo delle ragazze in modo personalizzato in cui metto degli allenamenti simili crossfit con delle propedeutiche di forza eccetera eccetera ma insomma sono dei casi un po' diciamo numerati perché è un grosso lavoro comunque fare la programmazione di crossfit e al momento non riuscirai proprio a seguirla nei grandi numeri non lo voglio fare quindi qua lo dico e qua lo nego però in realtà poi quando capiscono che il tipo di allenamento è per fortuna non mi arrivano ragazzi che mi dicono non voglio crescere non mi fare mettere il muscolo mi fa allenare le braccia che se no mi diventano grosse quelle forse dalla mia immagine si capisce che non me lo devono chiedere però diciamo che i dubbi diciamo sono questi poi ho fatto questo sito dove c'è scritto più o meno tutto tutte le informazioni per tutti i programmi come è strutturato quanti giorni di allenamento sono quante sezioni sono quanto dura perché poi provando i workout io ti dico pure quanto dura ogni sessione eccetera eccetera quindi delle domande un pochino più tecniche più specifiche del programma ma ritornando un po' all'argomento della giornata quindi insomma allenamento durante la gravidanza post gravidanza quali sono secondo te gli stereotopi quelle cose che non si sanno nel dopo nel post gravidanza come hai detto tu prima le ecografie spesso non te le fanno fare per vedere a che punto è la diastasi eccetera eccetera sì sì il problema secondo me sta proprio anche nel riapproccio dell'attività molte donne compresa io in realtà non sanno neanche da dove si riparte una volta partorita perché il parto è un evento traumatico per il nostro organismo e il nostro organismo ci mette anche fino ai due anni prima di ripendersi completamente anche dal punto di vista ormonale non solo fisico quindi le ragazze principalmente non sanno dove partire non ci sono tante figure che dicono va bene dai da oggi iniziamo con esercizi di respirazione attivazione della muscolatura della pelvi perché poi si pensa sempre solo a rinforzare ma in realtà la pelvi non è che deve essere per forza rinforzata ma va valutata quindi anche lì c'è proprio purtroppo secondo me un po' di disinteresse da parte delle figure sanitarie delle donne che partoriscono si dà molta attenzione al bambino alla bambina giustamente ma poca attenzione alla donna quindi diciamo che sta proprio da dove partì spesse volte anche quando sia tipo quando posso ricominciare ad allenarmi brava diamo vista la tua esperienza se dovessi dare qualche consiglio in linea generale buttali un po' di consigli da dare alle ragazze che ci ascoltano allora se parliamo di mamme sportive che hanno sempre fatto sport io capisco che aspettare i primi 40 giorni è pesante come lo è stato anche magari per me perché io non vedevo l'ora appunto di ricominciare però quello che consiglio io è che nei primi 40 giorni passeggiate lunghe passeggiate e esercizi di respirazione che ovviamente non si conoscono io ho fatto un po' di reel sull'argomento però anche qui sarebbe opportuno poi essere eseguite un po' più da vicino però degli esercizi di respirazione e di attivazione della muscolatura addominale profonda e che ti portano anche ad avere una propria cessione cioè un'attenzione particolare sulla zona della pelvi e del pileneo che ovviamente è un po' sfiancata soprattutto se magari hai fatto un parto naturale se hai fatto un cesareo invece devi avere un'attenzione un po' diversa perché ovviamente è una cicatrice che deve guarire con delle lesioni dei tessuti che devono guarire hanno bisogno quindi dei per forza di 40 giorni prima che si richiutano in maniera decente se bastano superati questi 40 giorni si può riprendere l'attività fisica a seconda appunto se si praticava prima l'attività fisica con degli esercizi di propedeutici quindi anche l'intensità incrementarla piano piano lavori di forza farli prima ovviamente tutto a corpo libero e poi piano piano incominciare a mettere i sovraccarichi e poi rimettere anche lo squat sotto il parallelo solo quando si ha una certa proiezione di sicurezza sia a livello del core che del pavimento pelvico è tutta una propedeutica cioè iniziare proprio infatti per questo io consiglio sempre le prime 12 settimane dai 40 giorni quindi non postparto quindi dai 40 giorni io le vedo come un po' stato anche il programma proprio come una riabilitazione del core del pavimento pelvico dei movimenti aerobici tutto a corpo libero piccolissime resistenze dai dalle 12 settimane poi rincrementare io che magari ero un po' iperallenata e non vedevo l'ora di ricominciare a competere eccetera eccetera ho magari messo degli esercizi le prime settimane avevo provato a riprendere con il crossfit normale ma era veramente una fatica pazzesca cioè proprio il mio corpo non rispondeva quindi ho azzerato e ho fatto proprio delle schede proprio di ricostruzione muscolare con degli elementi di forza base ad esempio e corpo libero e forza base workout molto tranquilli workout con ergometri insomma per rifare un pochino di fiato roba così e poi dopo le 12 settimane riprendi gradualmente la tua attività considerando che però l'addome ci mette anche fino a un anno prima di tornare quello che era diciamo che quello fondamentalmente il consiglio che dai tu è quello di prendersi i propri tempi andare per gradi riappropriarsi del proprio corpo senza magari a fare tutto subito tanto c'è tempo per arrivare insomma dove si era lasciato è un concetto che non è proprio immediato nella testa di una donna che è sempre stata abituata magari a fare sport essere indipendente con un determinato fisico e secondo me non deve essere neanche considerato un argomento frivolo come tanti lo fanno passare però per una donna anche a livello mentale ci vuole il tempo giusto cioè ci vuole il tempo giusto io per otto mesi ho fatto la pazza dopo il parto cioè che dovevo fare per forza il mila cose eccetera poi dopo un certo ho capito che mi dovevo dare una calmata cioè ci ho messo un po' magari altre donne ci arrivano prima di me io però invece che ero un po' più pazzarella che ci aveva un po' più di fretta invece sono volute otto mesi per capi che mi dovevo tranquillizzare il mio corpo era cambiato non per questo in peggio perché tanti ci hanno paura che è per forza cambiato in peggio però che appunto dovevo assecondarmi e rispettarmi soprattutto un po' di più hai ragione bisogna darsi un po' dei tempi come dici tu poi soprattutto per voi che avete fatto l'attività agonistica a un certo livello abituati magari a doppie sessioni triple sessioni ritrovarsi magari tutto in una volta a fare molto meno rispetto a quello che si faceva prima non è facile neanche a livello psicologico infatti anche visto che abbiamo parlato di Tia che Tia è tornata a cinque mesi postparto a quasi per gamey national che poi ho visto recentemente un suo video su youtube in cui diceva che appunto lei non si sentiva sicura negli stacchi e per questo l'ha fatta senza cintura perché ovviamente non l'ho ben capita quella roba però ti dico la verità cioè nel senso in teoria la cintura dovrebbe darti l'idea è che si voleva ascoltare un po' di più diciamo voleva ascoltare un po' di più il suo corpo quindi ha affrontato questo carico senza cinta però è stato un po' prematuro quello beh insomma dopo circa sei mesi forse dal parto era pochi mesi che aveva appunto aveva partorito adesso c'è un'altra gravidanza celebre perché la Annie Torresotti era la seconda gravidanza anche lei vedo che ragazzi ci dà con gli allenamenti però devo dire forse perché la Tia Tumi insomma siamo ritornati sull'argomento di Tia Tumi essendo lei insomma super campionissima diciamo che forse ha avuto ancora più attenzione a livello mediatico rispetto alla sua collega Annie che ripeto poi Annie magari è la seconda quindi poi è diventata master non saprei quindi magari sì c'è un'attenzione diversa sicuramente c'è un'attenzione diversa vediamo insomma che continua ad allenarsi anche lei era erong invitation con i legend a gareggiare non so adesso non ricordo di quanti mesi era però insomma questi atleti che non si risparmiano Alice ma sicuramente fanno quello che sentono ci sta basta che non cioè non deve passare il messaggio che sia proprio completamente normale e soprattutto no normale magari lo può anche essere però che non sia appunto adatto a tutti cioè è un esempio del singolo che va preso come un esempio del singolo senti dico una cosa un po' cattiva secondo te parlando di Annie Thor's Daughter e della tia Tuomi gestendo insomma un po' il loro rapporto anche con i media e con gli sponsor non si sono risparmiate perché appunto insomma lì in gioco c'era magari anche qualche soldino in più può essere può essere a livello di invidi di vabbè di presenza eccetera però è pure vero che hanno un'influenza talmente tanto alta talmente tanto forte che probabilmente agli sponsor non gli cambiava più di tanto diciamo però può darsi anche il ritorno ma sai secondo me il ritorno di tia l'ho visto un po' come un po' la necessità di avere la conferma di essere ancora la prima perché comunque dopo sei anni poi magari arrivano delle ragazze più giovani che non hanno affrontato gravidanza eccetera eccetera e quindi forse tu necessiti alla svelta di questa di questa conferma l'ho più vista una cosa del genere non lo so secondo me interessi economici sono un po' meno sono un po' più di ego personale secondo te insomma questo ego personale un po' sovrasta forse magari a un certo punto quello di invece di andare un po' più ad agio di darsi i propri tempi sì beh non è facile comunque accettarlo no non è facile infatti parliamo appunto di super personaggi quindi stiamo parlando dei top athlete di donne che nel caso appunto è un reinventarsi dopo se non sei più la numero uno al mondo no è vero è vero una cosa che a me è fatto specie poi magari chiudiamo il discorso Natia ma è sempre un po' dibattuta perché appunto lei insomma è sempre un po' sulla cresta dell'onda una cosa che a me sarebbe piaciuta da chi pratica crossfit insomma ci sono utenti di tutte l'età anche con disabilità eccetera che quello che dice il crossfit insomma che è uno sport che si può adattare a qualsiasi condizione a me sarebbe piaciuto invece che lei come tu hai detto magari a suo modo lei l'ha scalato però noi utente base quello che abbiamo visto invece è che cioè l'impressione che ci ha dato è quella che non abbia scalato tanto no mi sarebbe piaciuto come utente vedere un esempio di personaggio top che invece scala secondo te ha perso un'occasione no ma era nel a suo modo come mi hai detto anche un po' tu ha scalato cioè il messaggio che poteva dare un pensaggio un minimo anche se non non sembra sicuramente un minimo ha scalato ma credo che nel suo interesse non sarà quello di dimostrare che lei potesse scalare insomma questo non credo che gliene freghi più di tanto ecco credo che ha più interesse a dimostrare che è ancora la più forte al mondo bene lui comunque il nostro argomento di oggi era quello di parlare insomma di sport in gravidanza di insomma tutte noi possiamo fare sport Alice insomma ci ha raccontato la sua esperienza ci ha dato un po' qualche consiglio insomma seguita Alice sui social insomma tu ormai un super pubblico hai hai questo lavoro nuovo di influencer adesso ti sei dedicata a questa programmazione adatta per le donne che vogliono rimettersi in forma post e anche no insomma quelle che vogliono ritrovare un po' di ferma fisica che dire Alice magari prossimamente ci risentiamo e mi hai tirato fuori qualcosato dal cilindro vediamo e tanto divento creativa quindi ti tiro fuori qualcosa ci stai un po' lavorando hai qualche idea che ti ti frulla in testa ovviamente ho delle idee perché ad oggi devi essere un po' organizzata però non ancora del tutto chiare diciamo che sono principalmente legate ai miei obiettivi attualmente quindi diciamo che le idee che stanno bollendo in pentola sono per quelle cose lì al momento però vediamo vediamo vedo che l'argomento CrossFit comunque attira sempre molto l'attenzione quindi continuerò magari ad insistere sull'argomento beh insomma immagino che queste novità ovviamente sta fino a 2023 magari saranno messe a punto nel 2024 eh sì 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 diciamo vediamo 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 sì bene grazie a voi grazie a voi e ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima questo argomento poi questo argomento poi è sempre come abbastanza dibattuto c'è sempre qualcosa su cui insomma raccontare parlare in bocca al lupo per il tuo programma grazie facciamoci un selfie così non mettiamo sorrisino bene alice grazie mille e ci vediamo presto ci vediamo la prossima allora va bene a presto ciao ciao